Allora, però l'attaccante della Versa Romana di Allô Mustafà, tue sensazioni qui nei nostri studi di sport event? Meglio che io lo pensavo. È stata una bella emissione televisiva e gli auguri di fare il plato più importante che questa sera. Ma è una bella emissione televisiva e tutto bocca a l'uva a voi. La domenica hai segnato una rete importante per la Versa Romana. Con il doppio impegno di realizzare la prossima rete per gli amici di sport event. Sì, io lo voglio, come lo dicono i miei amici. Perché domenica prossima nessuno sa che si passa, ma si prova di fare sempre il meglio domenica prossima. Perché lo fa... Come si dice... Dopo tutti i gol, la pressione dell'attaccante sale di più. Perché la settimana prossima dobbiamo fare gol, non dobbiamo sbagliare. E si proviamo di fare uno gol per sport event. Allora, un saluto agli tifosi dell'Aversa, ma soprattutto quelli del Cicciano, che stasera ti hanno sostenuto in massa. Sì, come sempre, io dico prima grazie Cicciano. E le tifosi dell'Aversa... Io voglio solo dire una cosa. Le veri tifosi che vengono al stadio per guardare l'Aversa come una società, come una squadra, la squadra del loro paese. Io gli auguro di venire sempre al stadio e noi come giocatori facciamo sempre il massimo per loro. L'altro che tiene dubbio per l'Aversa di oggi, che è giovanile, che tutti che vogliono, gli auguro di venire al stadio a fare tifosi per loro società, per loro squadre del paese. È solo questo. e buco l'Aversa, e buco l'Aversa anche a Cicciano anche. Grazie, buco l'Aversa. Buco l'Aversa, grazie.